Mi riferisco a tutti i ragazzi, ringraziamo nuovamente i belli di notte, che ci hanno fatto l'opportunità di suonare su questo palco magnifico, ringraziamo tutti quelli che di voi sono venuti a votarci. E' un ricordo a tutte le donzelle presenti, che magari mi sono piaciuti i pezzi, non so, Danielino è il compositore, è single, andate da lui, ha un passato molto attraverso, ha bisogno di essere riabilitato, quindi fate a lui quello che fareste a Marco. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti